Cos'è? Perché è tutto buio? Ma bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi siamo ufficialmente ritornati nella nostra serie horror, esatto, una delle vostre serie preferite. Prima di iniziare con il video vi invito già da subito a lasciarmi un bel mi piace, perché ai 1000 likes dell'arco di 24 ore non esiterò a portarvene un altro. E in questo video come obiettivo abbiamo quello di trovare i diamanti. Però stavolta ho deciso di concedermi un pochino di relax in ambito di editing, perché in questo video andremo ad esplorare giustamente il mondo, però voi vedrete effettivamente tutto ciò che succede, quindi diciamo avrete la piena esperienza di ciò che viviamo io e svantaggio quando registriamo questa serie. Se non ci saranno musichette in sottofondo, quindi non nascondetevi nei commenti. Se ci prendiamo lo spavento, anche voi vi spaventerete. Quindi sì, diciamo che occhi ben aperti, se non vi diamo aero, però infatti ce lo sapete nei commenti. E direi che possiamo anche iniziare. E in questo momento vi starete chiedendo dove sono finite tutte le nostre cose? Avevamo l'inventario pieno, finalmente abbiamo trovato degli zaini. li abbiamo trovati in una mineshaft, ok? Vi lascerò magari una clip, giustamente riesco di portarmi un pochettino avanti, perché sennò veramente il video durava troppissimo e diventava giustamente noioso. Oh, ci sono! Oh, finalmente un zaino! Mettici tutta la cacca d'info. Oddio! Enorme! Questo destro, metti tutto! Ma invece me la d'oro un altro zaino. Oh, perfetto! Ripeto ragazzi, io detesto fare cose off camera, perché magari qualcuno di voi inizierà a dire, oh ma cari, ma tu ti ghi vi le cose. Ragazzi, io non ho poteri, non posso fare nulla, quindi tutto ciò che io farò verrà registrato. Come prima cosa io direi, innanzitutto vi mostro il mio zaino, che se non voglio è questo, eccolo qua. E in questo zaino abbiamo un sacco di robe, abbiamo ucciso un paio di mostri, la mia armatura si sta per distruggere, e in questo momento, ripeto, dobbiamo trovare assolutamente di diamanti, perché senza diamanti non possiamo andare avanti. Ho fatto pure di ma, oh! Ok, io direi di proseguire verso questa direzione. Tu hai tutto con te, sei pronta? Oddio, c'è un villager aerobrine là sopra. Dov'è? Oh mio Dio, bruttissimo. Aspetta un attimo che lo uccido. Non penso che posso ucciderlo. Oddio! Oddio! Ma hai tutte le mani? Mi sta inseguendo. Aspetta. Ma? Ma? Cosa? In che senso? Ma in che senso? Raid? Aiuto! Aspetta, allora. Allora, ferma, ferma un attimo. Sì, facciamo... Stanno arrivando davvero, ma... Non si, cosa ho fatto? Un altro villager aerobrine. Penso che questi villager aerobrine facciano scattare un raid. Non hai detto? No, sono villager normali. È una cosa, non è un problema. Non è un problema, tanto siamo forti. Ho fatto fuori uno. Aiutami, ah? Vai vai? Sì, sì. Ogni, mi si sta pure per distruggere la spada. Aia. Eh, devo fare attenzione qua. Anche ci penso io. Secondo round di raid. Eh, mi serve assolutamente craftare roba, ah? Iniziato così. Eh, non lo so, a caso. Oh, mamma, però mi si sta distruggendo tutto. Oddio. Oh, vedi. Penso che io, uccidendo questo ragazzo, ho fatto scattere il raid, sai. Non ho capito. Oh, hai attaccato l'aerongolem? Sì, per sbaglio. Aspetta, ti aiuto io. Provo a vedere se riesco a distrarlo. No, non ho capito, ci stanno i villagers maledetti dentro, con gli occhi bianchi. Devi ucciderli. Aspetta. Non ho fatto il raid. C'è l'aerongolem dietro che se ti colpisce e ti one-shot, sappia. Cerco di farlo fuori io. A posto, vai a posto, a posto. Ma che sei? Non ho capito. Ah, i villagers con gli occhi bianchi? Sì. Fanno parte del raid. Ah, sì? Sì. Guarda un attimo. Faccio fuori questo. Ok, a posto. Cioè, iniziamo il video con un raid. Va bene, azione. Azione, dicevano. Ma io sono stupida, comunque. Non è che lo guardo, indago. No, l'ho colpito nientamente. E vabbè. I villagers con gli occhi bianchi. Di nuovo gli ululati. Sento tipo... Io vorrei completare il raid, però non ho ben... Ah, c'è il campanello? Fermo un secondo. Oddio, eccolo. Ci serve la campana? Uh, patate. Ok, perfetto. Oh, eccola, eccola, eccola. Ho ucciso. Atta, atta, atta. Ti difendo, ti difendo io. No. Vai, vai, prendi. A posto. Preso, preso. Adò. Fai suonare la campana. È un nascosto. Fai suonare... Hai sentito il ghost? No. Gast. Gast? Trovato! Trovato? Eccolo, sì. Eccolo, sì. Che vuoi fare? Preso. Ma sicura che fa un party di raid? Dice due raiders rimasti. Non penso, eh. Ah, che sta succedendo? Due. L'ulato è diventato furtissimo. Non mi piace perché si avvicina, quindi so che c'è un mostro da qualche parte. Qualsiasi cosa sia ci sta per attaccare. Io sento... Oh, fantasma! È lui magari, è lui. No, non è lui. L'ho trovato pure in caverna, questo qua. Lo senti? Non so se ti può seguire. No, seguire quei suoni di sicuro no. Allora, vediamo se c'è del cibo. C'è qualcosa per tipo... Devo farmi un'armatura nuova, per forza. Ok, scuro ce l'ho. Ok. Cosa è questo rumore? Ah, ok. Ok, vai. È un fantasma. Ha fatto un backflip? Let's go! Non trovo... Dovebbe esserci... Lupo Mannaro. Ho sentito Lupo Mannaro. Vengo da te adesso. Direi che possiamo anche lasciare questo villaggio. Oh mio Dio! Non c'è più nient'altro a questo villaggio. Così? Che c'è? Non mettermi ansia. Attenta dietro! Oddio. Che c'è? Guarda, guarda laggiù. Laggiù dove? Ma scompare! Che c'è? C'era qualcosa di strano. In che senso? No, non dì così però. Metti ansia. Ma lo giuro, c'era qualcosa con strane forme. Con strane forme? E ora non c'è più. E ora... E ora mi hai messo una paranoia addosso. È un qualcosa che abbiamo già visto, per caso? No. No, dai. Non dì così però. Una cruce c'era. Mi fa paura questo coso. Ok, sì. Mi fa paura. No, via, 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 via. Non ci serve combattere queste. Non ci danno nulla in cambio. E sono una perdita di tempo. Via, 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 via. No, vieni, vieni, vieni. Se no, no, voglio finire. Ma dai che c'è un boss, un qualcosa? Cosa? È velocissimo sto robo. Devi far suonare questo. Questo era forte. No, io ho paura adesso. Vai. Uh, ping pong. Atta. Uh, ci è mancato poco, eh. Uh, è con un altro villaggio di Slenderman. No, Aerobrine. Enderman? Slenderman? In che senso? Dove? Ah. Vedi che non sono loro. Ci sono i rupi mannari. Ho sentito lulù. E qua io non vedo nulla, eh. Lululù. Si dice lululù? Ululù. Ululù. Ululato. Mamma mia, forse di vivere a Londra, sto dimenticando l'italiano. Guardi, ho trovato. Cosa hai trovato? Vedami, vedami. C'è, 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 c'è. Una spaventa passi, non so cosa sia. Io! Oddio. Cos'è? Oh, mamma mia, che è? Ma che è? Ma che è? Aspetta. È un boss. Oddio, mi sa... Che è? Uh, ok. Cos'è quel roba? Ah, ecco da dove è andato moltissimo. Cos'è? Oh mio, addio! Proviamo a ucciderlo. Io lo so facci... Oddio! Mi ha tolto tutta la vita. In che senso? Schivalo, schivalo. Attento, attento. Oh! Ti lancio un laser che ti toglie tutta la vita. Bravo, bravo. Cerchiamo di sconfiggerlo. Stai lontano, stai lontano. Sei fermato. Stai lontano. Ti lanciamo qualcosa, attento. Sei teletrasportato? Oh, mamma mia! Sarà con me. Vai, vai. Cerchi di fregarlo. Falpisci, lo, falpisci, lo. Lo sto facendo. Oh, eh, vabbè! Quanti mostri ci abbiamo dietro? Quanti scheletri! Ma li sta spawnando lui? Sì, sto spawnando lui. Oh! Mamma mia! Guarda, sto facendo all'infinito. È morto! È morto? Sì, l'ho ucciso. Cos'ho droppato? Oddio, quanta roba. Io luto tutto, io luto tutto. Ha droppato così tanta roba che non manco tempo di vedere. Creeper, creeper, via, via, via. Ok. In che è a posto? Gigi? Si è evocati più morti. Ma hai notato che appena l'abbiamo ucciso ha smesso improvvisamente di piovere? Tipo, all'interno... Oh! Spero freccio. No, volevo colpirlo. Che sovente? Manca l'avevo visto io. Ma perché non me lo fa colpire? Stai diventando finalmente giorno. Ok. Quanti creeper. Eh, lo so. Non so cosa sia successo. Boh, guarda. Ma c'è un altro lì. Ah, ma fa parte dei raid, vero? No, perché mi ero ancora raiders coso, rimasti due. È lo stesso? No, è diverso. Questo è diverso. Ma che è? Giga chad. Io lo freccio? Vai, freccio. Oh, mamma mia. Aspetta. No, no, no. Fai attenzione. Brava, brava. Fai attenzione, fai attenzione. Sì. Ok. Prendi danno. Brava, brava. Aspetta che ti aiuto. Ok. Ma perché non rispondi agli attacchi? Ma che armatura hai in eterite? È morto, già. Piece of dark metal. È tipo un cavaliero scuro, una roba del genere. Andiamo avanti, va? Proseguiamo. Allora, guardando la mia mappa, verso la direzione in cui stiamo andando adesso, non ci siamo mai stati, perché non mi carica i chunk. Quindi andiamo qua. Voglio esplorare le zone nuove. Magari si possono trovare diamanti pure in superficie. Cioè, quello a cui spero io in questo momento. Eh, vabbè, in superficie. Eh, non lo so, no. Non tipo, chi ne so, troviamo la deep slate sospesa in aria. Però, tipo, che ne so, possiamo trovare un dungeon, un qualcosa di più avventuroso che possiamo... Ma? Perché c'è una capra? Perché c'è un vento così forte? No, aspetta, non so se le capre droppino carne, eh. Penso di sì, però. Sì, certo che droppino carne. Mm. Eh, qualcosa c'è... La casa della strega? Oddio, manco vedo questa casa di Minecraft normale, la vedo qua. Comunque, dove sei? Oh, non perdiamoci, dobbiamo stare uniti. Il video è iniziato un po' così. Diciamo che siamo... Siamo stati fronteggiati da due boss, praticamente. Però, io, Brian, ultimamente lo vedo molto, ma molto poco spesso, eh. È vero? No, molto, spesso, più, spesso di prima. Tu dici? Io non vedo quasi mai. Ma penso è sempre. È sempre dietro, non capito perché. Non me lo fa neanche... Non posso neanche colpire. Ma allora, di sicuro ci sarà un modo per ucciderlo. Penso che dobbiamo fare tipo una sorta di... Tempio. Rituale. Perché sono... Bravo, brava. Perché ho visto che, giustamente io, in passato, dato che guardavo i video di Erobran e queste robe qua, questo tempio faceva, sì, che tipo Erobran spainasse, ma tu potevi ucciderlo. Cioè, non so se sia rimasta così la lore. No, ferma, allora. Aspetta. Prima di andare avanti... Aspetta, ma non deve sparire il... Il... Il metto per primo? Eh, no, perché io non ce l'ho voluto il metto all'inizio video. Penso che magari ho combattuto un pochettino così per... E poi... Sì, è andata. Allora, tieni, anzi, questa la do a te, tieni. Io invece mi faccio... Un altro corazzo nuovo. Prego, prego. E tra l'altro, quanti zaini hai tu? Che era... Quando sei andata nella mineshaft... Ah, sai che lo puoi mettere addosso, lo zaino? Fermo un attimo. Esiste un modo per metterselo addosso. Tipo... Eh, però guarda. Ah, forse è quello che ce l'ha tolto. Vabbè, a questo punto lo tengo all'inventario, scusami. Fai posare un attimo le robe qua, che c'è troppa roba. Poi mi hanno droppato delle robe. Charm of Strength. Eterial Spirit. Mado, quanta roba. Dobbiamo studiarci tutte queste cose con calma un giorno. Qua c'è un sacco di roba spiritica, tipo. Aia. Guarda qua. Che è lì? Ah, ma aspetta. Questa è mica la casa dello stregone. Che ho visto tipo un sacco di volte. Ci stava con qualcosa di interessante dentro? Sono dieci? Sì, 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 è quella. L'ho riconosciuta da questa torre, con questo pattern particolare, tipo. Cioè, guarda. Aspetta, veniamo. Sì, sì, è questa, è questa. Però non so se ci sia un qualcosa di utile, perché noi, vabbè. Vabbè, non diamo. C'è un ragno dietro. Sì, vabbè, lascialo. Ignala. Sì, è vero? Sì, sì, è la stessa cosa. Mamma mia! Che infarto! Era qui sulle scale! Mamma mia, mai più. Ma si può contrattare. Cosa, cosa ti... Eh, sì, ma ti dà... Eh, ma l'abbiamo già ascoltato, questa, eh. Andiamo, via, via, via. Vieni. Vieni, ma è iniziato a piovere? Che senso? A caso? Vorrei incontrare, aspetta. Anzi, abbiamo già risolto. Ah, no, io ce li ho, forse. Fatti? Forse ce li ho. Non ci conviene, non ci conviene. 31. Ah, è vero, è vero. Hai ragione, hai ragione. Risparmiamo i nostri livelli di esperienza. Esatto, esatto. Andiamo, vieni, vieni, scendiamo. Ha iniziato a piovere comunque così a casa e quando piove non è mai un buon segno. Certo, Blaine. Chissà, magari adesso un tuono ci cade in testa, vero? Questo è il laboratorio, esatto. Laboratorio dove è pieno di... se c'è qualcosa dentro, effettivamente, perché mi sembra proprio impossibile, capito? Non c'è niente. Sincero non saprei. Però noi, vabbè, lutiamo e andiamo via. Cioè, io ho già capito com'è. Ma? Oddio! Ma? La scorsa volta non ha fatto così. Cos'è? Che succede? Non entrare. Ma? È la prima volta che fa così. Andiamo, lo stesso? Ma non è un laboratorio? Non c'era sto laboratorio. A me ci sono i zombie qua dentro. Ah, guarda, io questa faccio una volta. Ma? No, ma salve. Lootiamo, andiamo via, 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 via. Io tengo lo scuro parato, che ne so se non è. È che c'è una specie di musso qualcosa. Oddio! Federfall in quattro! Oh! Visto? Oh mio Dio! Diamonds! Ok, via da qua adesso, via. Aspetta, aspetta, qua ce ne ho trovato qualcosa. C'è un... No, ci sono veramente una traptor, non c'è nulla. Andiamo via, andiamo via. Non mi piace questo rumore. Redstone Touch. Ok. Non è successo. Mamma mia! Ha fatto un sacco di casino, veramente. Che via, via, via. Non capisco cosa sia successo, però va bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Qua c'è qualcosa? No. In quel furtino qui? Niente. Dai, dai, controlliamo. Siamo già stati lì. Non ci sono un'occhiata. Cioè, io ci sono stato lì. No. Ma non l'hai proprio toccato? È presente che nei villaggi ci sono quelle strutture, tipo quegli alambicchi? Ecco, stessa l'intica cosa, solamente con... Non ci sono fatta notte? Non ci sono fatta notte, no. Oddio. Io prendo la legna, ci facciamo una barca e andiamo a navigare, va? Ci sono cose che non avevamo mai fatto su questo mondo. Praticamente, andare nel nether e navigare in barca. E andare nel lento, ovviamente. Andiamo nel nether. No, no, adesso andiamo un attimo in barca. Poi andiamo nel nether. Vieni. Allora. Scendi, scendi, scendi. Vado, mi butto. Ma è che in acqua c'è qualcosa che ci ammazza. Eh, chissà se c'è qualche struttura in acqua. Cosa? Oddio. Vai via, vai via. Via di qui? Era quel mostro? Quale? Dov'era? Posso sentire... Cos'è? Hai sentito? Non lo voglio sapere. C'è qualcosa qua? Sopercuitare. Luta? Sfali in ferro! Oh, riesco! Aspetta, aspetta. Ok, luta, luta. Piccolo in ferro, ok. Oh, ansia. Oh, mio Dio. Ma c'è una piramide lì che non abbiamo mai visto. Ah, aspetta. Ok. Polvere che sparo. Questo non mi serve. Oh, per il bambino ho messo l'ala. Ho cliccato qualcosa. Oddio. Ah! Si è bloccato tutto. Ah! Qualcosa sta arrivando verso noi. Qualcosa... Si è bloccato tutto. In che senso? Ok, andiamo. Vieni. Ci sta una piramide qua. Ah, ok. Cacere. Ma? Oh! Si è bloccato tutto. Oh! Hai cliccato K? Aiuto! Aiuto! Ma stai spinnando. Ma? Stai spinnando. Il mio corpo! C'è adesso. Ah, la barca. Che spavento. Stai spinnando. Eh, tu mi guardi, ho capito. Spinning gorilla. No, ho rotto la spada, non ci credo. No. Con la spada, lei... Eh... Ma non so, c'era una piramide qui. Pensava che ci fosse qualcosa dentro. Invece non ci sta niente. Aspettami, devo fare una scia nuova, perché... Guarda lì! Oh! Non salta fuori. Oh mio Dio! Finché non salta fuori, non è un nostro problema. Oh, che fai? Non so, è lui! Non posso manco sparargli perché non ho frecce. Via. Cioè, adesso siamo circondati in un piramia mentre ci sono scheletro che ci spara. Ma è enorme, poi è bruttissimo. Che pesciolone enorme. Aspetta un attimo. No, ci sono entrata! Perché? Non volevo entrare. Ferro, ferro, ferro. Ah, beh, c'ho l'ascio in teoria, vabbè, posso combattere con l'ascio. Ma che è un sacco di XP. Davvero? Eh sì. Eh, andiamo avanti, no? Andiamo avanti. Eh, guarda, ho visto qualcosa. Dov'è? Oddio, è vero, c'è una tenda, tipo. Oh! Non so, ti puoi essere... Sì, ma ora possiamo tipo lutarlo? Cioè, c'è qualcosa lì o... Basta! Vieni, vieni. Vieni, vieni. Piccone... Piccone, piccone... Boccanti, un boccone, un boccone boccanti. Ma io, tipo, posso aprire lo zaino? Sì. Beh, per forza. Ah, c'è spazio. Eh sì, cioè, tipo, sembra una doppia cassa, quasi. Comunque siamo quasi duemila blocchi di distanza da casa, renditi conto. Non è che ci siamo allontanati di poco, eh? Boccanti. Boccanti. Oh, c'è un pillager dietro. Sì, sì, ho visto. Poi, mentre... Tu hai pillagers? Mentre scuro, non posso parare... Cioè, mentre attacco, non posso parare con lo scuro. Allora... Che pillagers ci sono? Oddio! Hai voglia di farti un giro in quella casa lì? Ovvio. Vieni, vieni. Siamo circondati da pillagers. È tipo la città di pillager questa, sai, non so. Vieni, vieni qua, vieni qua. Ignorali, ignorali. No, sto cercando di scappare, in realtà. Allora, vorrei esplorare questa zona. Blocchi, vediamo se ne ho. Sì, non c'è stato, tipo... Abbiamo pochissimo cibo, comunque. Ecco qua. Eh, lo so. Vieni. Ah, ci poteva salire anche da qua. Ancora stato io. Spawner si spacca. Questa è uccidibile, eh? Sì. Apposto. Ok, due hit. Poi c'è una porta che... Uh! C'è una sauna qua! Bello! C'è tipo una sauna. Cibo, un sacco di cibo. Mamma mia, che interessante. Oh, sì. Le rape. Sì. Io non le prenderò, di sicuro. Andiamo. Le torte, sì. Il cibo serve. Quello sì, per forza. Vai, vieni su, vieni su. Dai, facciamo veloci. Ma bella sta zona così. Non è nulla. No, a me pensavo fosse un dungeon spaventoso pieno di... Eh, non è che tipo magari in cima a tutto ciò ci... Ah, è elegante, eh. Sinceramente poteva anche questo diventare casa nostra. Quoi sono i fantasmi che non riuscivano ad uccidere? Ma è che sono uccidibili, però. Andiamo? Ah, esatto. Ora li puoi uccidere. Oh, oh! Oh! Ho preso un effetto negativo. Oh! Oddio, oddio, oddio. Non so che mi danno. Posto. Arriva un altro. Aia, aia! Aia, aia, aia! Non stare lì. No, no, no. Praticamente quando tu uccidi uno di questi fantasmi, rilascia tipo una sorta di tossina. Oh, mio Dio. Non possiamo stare in quella zona, vai. Spawner l'hai spaccato, sì. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti, oh, Dio. Andiamo, andiamo. Oddio, quanti ce ne sono? Eh. Attenzione che quando ti uccidono allontanati, eh. Oddio, oddio, oddio. Ecco, vedi? Visto? Brava, brava, esatto, esatto. Ok, fatto, via. Boom. E ora possiamo scavalcare qua, così. No, no, scherzo. Allontanati. Eh. Beh, devi scavalcare, devi scavalcare. Non devi camminarci dentro. Un'altra sauna. Oh, ma è un primo massaggio. Aia. Ok, me lo adoro. Io entro. Ok, vai. Andiamo. Oh. Oddio. Vado quanto danno. Eh, mi sa che sono stato io, eh. Mi sa che sono stato io. Oh, oh, oh. Ecco. Via, via. Fermo un attimo. Fai passare il tempo. E direi che siamo a posto. Spawners qui. Oh, non sono mai entrato. Oh, è bella sta roba, eh. Spawner qua. Spawner qui. Preso. Preso, 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 preso. Direi che non c'è niente. Oh, no, non starmi dietro così. Che ho paura. Eh, metti ansia. Sono morto. Oddio. Ok. Oh, 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 oh. No, io direi che non possiamo salire per ora. Aiutami a decidere quello. Bravo, bravo. Oddio. Via, via, via. Urco. Esci, 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 esci. Esci qua, qua, qua. Chiudo. Ok, calma. Ok. C'è la torta lì, usa quella per... Ah, io ce l'ho il pane. A cosa stasmi? Urco, 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 urco. E sta facendo pure buio. Dobbiamo sbrigarci. Siamo circondati. Tanto si bloccano. Guarda, sono fermi. Via, 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 via. Ok. A posto. Ora devono cercare di fare fuori quelli. Però prima di farli fuori... Chi è che mi ha dato la richiesta di amicizia mentre registro? Grazie, Chris, per l'amicizia. Oh, ecco. Ma questi sono facili da fare. Ok, dobbiamo esplorare questo piano. C'è tipo un idromassaggio, ma... Non è che muoio qua, no. Ok. C'è qualcosa qui? Piccone. Soul Sand. Questa è acqua bollente. Oh, tipo, sì. Sembra non esserci niente, però. Candele. Un effetto strano addosso. Mela d'oro. C'era una mela d'oro. Resistenza. È resistenza? Questa acqua ti dà resistenza, sì. Oddio. No, assorbimento. È resistenza. Oddio, è vero. Resistenza 2, rigenerazione... Ah, è tipo un'acqua curativa, una roba del genere. Ok. Quindi possiamo stare qua, allora. Adesso c'è la rigenerazione. Non c'è qualcosa. Spawner. Via! Oh. Ok, vai. Che fai? Non lo so, le stavi coccolando, l'ho capito. Ok. Biscotto. Pollo. E qua la torta la mangio anche io. Ma c'è un labirino. Oh, non c'è, sto trovando. Diamante. Oh, è un diamante! Ho trovato un diamante. Aspetta. Sì, è un diamante. Oh, nuovissimo, a posto. Cioè, il nostro obiettivo era farci un'armatura nuova, ma se me la dai così... Eh, cosa è? Ho trovato un'altra torta. Pozione di cura. Livello 2, perfetto. Qua non c'è niente. Loot box, cristalli, oro. Ok, guarda qua. Si luta. Perfetto, sono felice, sono molto contento. È un labirinto. Ma non proprio un labirinto. Sembrerebbe una sorta di... Boh. Qui continua. C'era un punto in cui ho visto che ci stava una scala che continuava ad andare verso l'alto. Che se non sbaglio è qua. Sì, qua, vieni. Ok, destra o sinistra, scegli. Ok, è andata di là. È finita. Ah, ok. Bello. Mi piace questo posto. Ok. Questa poteva essere la nostra nuova cosa. E per fortuna non le... Oh, mio Dio! Non andare lì. Questo è un elmo tipo quello delle tartarughe. Un sacco di oro, va bene. Con tutto questo oro a questo punto mi conviene craftare delle mele d'oro. La terrazza. Ah, qui non l'ho... Aspetta. Oh, ferro. Vai, luta, luta. Vi ha un altro diamante. Sì, posto. Sì. Io aspetto il momento in cui tu decida di aprire quella porta. Pensaci due volte a questa. Guarda. Guardami in faccia. Non c'è niente. Guardami. Pensaci due volte, eh. Questa porta qui. Lui sono io adesso. Guarda, per farmi passare. La velocità con quella è chiusa. Allora. Non è poi così tanto male. Rana? Non vale così. Che senso, Sony? Allora, scudo la mano. Che fatto? E devo restringere lo spawner, via, via. Ma lo spawner è il di rane, ma... Via. Perché è pieno di rane? Oh, 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 oh! Dio, oh, 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 oh! Dio, oddio, oh, 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 oh! Oddio, muoio, muoio, muoio. Cinesci a scappare? Lintorni Sai una cosa Intanto che io sono qui E ho un sacco di mele A sto punto Mi conviene craftare Delle mele d'oro Quindi Svoltiamo tutti i miei backpack Con tutto l'oro che c'ho Devo far fuori Vai vai Fai fuori Chi devi far fuori tu Io faccio Le mie mele d'oro Apposta E posso anche andare avanti Ora Fermi un attimo Oh Ma da dove vengono? Da sopra C'è anche l'Aerobrine C'è anche l'Aerobrine? Sì Ok Io sono salita Sto cercando di trovare lo spawner Riesci? Aspetta Forse riesco a Fare una roba Non riesco a dove sia Ok Qua C'è la strega sopra Strega? A caso? Sì Ok L'ho ucciso Un sacco di ferro ho trovato Torcio Ok Ok Si può salire sopra E' sicuro? A parte i fantasmi Wow Sono su Eccolo spawner Eccolo Vai 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 Preso Sii fantasmi li ho evitati Me lo adoro Per forza Non voglio morire Ok vai Uccidiamo di tutti Oh oh Origine Riesci Uh C'è un altro spawner? No non c'è più Ok Ok Ne manca uno vai 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 Oh Finalmente Oh Ok Questo è il punto più alto no? Siamo a posto Basta Finito Eh ma c'è qualcosa Mi sembra proprio impossibile che non c'è niente Eh Allora Tanto loot ci sta qua eh Oh un sacco di oro Quando c'è la redstone c'è qualcosa Quando c'è la redstone solitamente c'è sempre qualcosa capito? Eh ma non è collegata a nulla guarda Non ci stanno ingranaggi strani vai a dire? No non ci sta nulla Eh abbiamo finito direi Non c'è più nulla qua Ok Vabbè non è stato troppo complicato eh Ci siamo salvati per un pelo però comunque è stato fattibile Ok Cioè abbiamo portato questa mega struttura E abbiamo fatto a sopravvivere Abbiamo fatto diverse cose Gigi Ah non diventano più roba in ora Ah Vieni Vieni Ah Guarda Fero 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 Eh aiuto Guarda lì Guarda che urlo c'è Lì 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 Lui sto puntando io Vedo piedi neri Vai via vai via È il mostro lungo Prendi una barca e vai via Veloce Sì è lui Mi sto osservando È lui È lui Ho paura Ho paura Ho paura Vattene via Vattene via Prendi la barca Prendi la barca Eh non ce l'ho È tutto nel backpack Coprimi Osservalo Ferof Proviamo ad ucciderlo No Ma scappiamo sempre Sto impanicando Aspetta C'è la crafting table Non uccidere ste pecore Si moltificano all'infinito Sei morta Guarda mi dice che muori Quanti cuori hai? Tre e mezzo È ancora qui È lì È lì Ci sta seguendo Guardalo lì Lo vedi? Quanto è brutto No No Questo ci segue Altro che andiamo via Per me ci dà un jumps Che era assurdo Però io voglio prendere l'oro Fermo un secondo Fermo Voglio prendere l'oro Santa miseria Quanto è brutto Sembro io Tipo Quando mi sveglio al mattino Alla fine diciamo Le caratteristiche sono le stesse Prova 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 Via Perché è andato via Guarda così? Guarda in fondo chi c'è Ma che così lontano? Dove va? Sta rovinando Io Ehi Seguilo Seguilo Ehi Tu Seguilo Seguilo Fermo Seguilo Non colpirlo Seguilo è basso È scomparso? Indicava qui Questo villaggio Oddio c'è un villaggio Qua Ma come Oddio È vicino il villaggio Ma Ok Che bello questo villaggio Eh non è male Aspetta un secondo Che prendo il pane qui Oddio Ma possiamo fare gli scambi qua Ah ok Possiamo fare gli scambi Ma è bello sto villaggio Sai non è male Siamo comunque All'intorno ai 12.000 blocchi No Qui lo è 12.000 2.000 blocchi di distanza Da cosa nostra Ok siamo messi abbastanza È così così Oh ho trovato un binocolo Posta Anzi si serve il binocolo Sì Il binocolo Il binocolo Il binocolo Ho trovato un macazzo Pieno di lootbox Selce Questo Qua cosa ci sta? Questo Secchio d'acqua Va bene Quanto spazio ha questo Questo zanetto Eh meglio Che ti volete fare? Non c'è più spazio No dico Anzi devi essere felice Finalmente C'è Un altro lootbox Oh smeraldo Ci sono un altro qui dentro Pa Ho trovato così Cosa? Challenge complete Centennial Cosa? Non lo so Cosa è uscito? Anche io voglio fare quello che hai fatto tu Non lo so Ho aperto solo una cassa Ma? Mi ha dato un trofeo Quando apri 100 lootbox Ho aperto 100 lootbox Mi ha dato un trofeo Ah e me lo porto a casa È tipo uno Steve Che apre una cassa Dove sei tu scusami? Ah ecco te Sopra Ah Ahia Ah Cosa? Hai messo tu No Non hai messo tu sta roba C'è una C'è una R Hai messo No No Perché? Non lo distruggere Oh No No Non lo so Mi ha teletrasportato in un punto a caso Ma? Ha tipo da per te C'è qualcosa lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì Ferma C'è un coso lì Guarda lì Lo colpisco? Non vedete E scompare E niente Anche la gente scompare Ma dove siamo? Mi ha teletrasportato in un punto a caso No Ma siamo tornati indietro? Ah sì Al punto che eravamo noi prima Via scendiamo Scendiamo Via via Da questo lato Ci sono le torce Ci sono le torce qua Oh mamma mia Aiuto Vai via 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 Oh mio dio Chiuditi dentro Vai via in qualche casa Eh Scusate se vi ho interrotto Via Ma Che c'è? Perché non abbiamo lottato niente? Eh Boh Eh avevamo lottato qua comunque Oh eh In che senso no? Perché C'è di nuovo la Ah 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 Ma da che paura Mi è entrato un Il coso Mi è entrato Scrive Mannaccia No aspetta Filmo Lo sto capendo Ah 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 Mamma mia Vuole un abbraccino? Non penso che voglia un abbraccino Ah Cos'è? Cos'è? Perché sono strums? Mamma Perché tutto buio? No Ah 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 Ti stai seguendo Ah Ah Guardia 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 Dire Oddio Via via Che brutto rumore che ha fatto Lo sto uccidendo? Aiuto Tito Aiutami Oddio è bruttissimo Vai 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 uccidi Uccidi Aia È morto Perché tutti questi rumori? Che urlo che ho tirato Ok io direi che basta Basta così E nulla ragazzi Questo video vi è piaciuto Invito a lasciarmi un bellissimo like In iscrivervi se ancora non l'aveste fatto Lasciatelo per favore Perché abbiamo preso un infarto bruttissimo E noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video Qualcosa è morto dietro di noi Ok grazie Aaron Golem Grazie Grazie per averci invitato Adesso eh No dopo che c'è un uomo Un uomo nero che ci stava ricorrendo E noi ci vediamo al prossimo bellissimo video Ciao belli